tutti sul mio canale tutto dal web iniziano le prime tensioni in vista della finale quelli che fino a poco tempo fa erano considerati migliori amici adesso stanno diventando nemici e sì perché in queste ultime ore garibaldi ha avuto una cesalite con anita e l'ha accusata di aver sempre parlato male di lui come vi dicevo in queste ore ad avere una lite sono stati giuseppe e anita da sempre loro migliori amici tutto iniziato quando il collaboratore scolastico si sarebbe incupito dopo aver visto la sua conquilina trascorrere del tempo con alessio a quel punto tra i due c'è stato un acceso confronto e addirittura mazimiliano varrese ha insinuato che giuseppe sarebbe innamorato pazzo di anita ma non è finita qui perché anita ha tirato in ballo anche i tempi in cui giuseppe era vicino a beatrice e così ha affermato quando stavi con lei tutti mi massacravano e io dovevo difendermi da sola tu difendevi sempre lei gli altri mi hanno chiesto perché ti si è avvicinata a bea e gli ho detto che lo facevi per far innervosire me per ripicca poco dopo giuseppe garibaldi ha anche accusato anita di aver sempre parlato male di lui e ha dunque aggiunto tu invece hai sempre parlato male di me l'hai sempre fatto per me e contro di me ovviamente il video ragazzi del momento non è passato inosservato sta facendo il giro dei social è la fine di una grande amicizia faremo a vedere lasciami un like se ti va e iscriviti al mio canale ciao e alla prossima